Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. Durante la diretta dell'Isola dei famosi 2023, è esploso un intenso scontro verbale tra Natalie Caldonazzo e Andrea Locicero. Ilari Blasi ha proiettato loro un video riassuntivo degli scontri avvenuti durante la settimana. Andrea ha rivolto alla showgirl parole taglienti come arrampicatrice sociale, opportunista, falsa. L'atmosfera si è surriscaldata e i due sono entrati in una lite accesa. Natalie Caldonazzo ha voluto precisare. Mi ha anche chiamato testa di cazzo asterisco asterisco e moterfu asterisco asterisco e deve avere il coraggio di dirlo. Alvin l'ha richiamata dicendo. Manteniamo un equilibrio. Siamo in prima serata. Tuttavia, la showgirl ha continuato ad esprimere il suo disgusto nei confronti di Andrea Locicero. È falso. Non riesco neanche a guardarlo. Mi viene da vomitare. A quel punto, Locicero ha spiegato le ragioni di tanto astio. Prima di tutto, hai detto alle persone che stavano in albergo che io ti disgustavo. La showgirl ha accusato il naufrago di bullismo e Natalie Caldonazzo ha risposto punto per punto al lungo sfogo di Andrea Locicero. Una signora di mezza età che esprime un tale giudizio dovrebbe solo vergognarsi. Taci. Quando parlo io, tu devi tacere. Poi hai parlato dei miei figli, uno dei quali sta per nascere. Sei irrispettosa, maleducata e una persona che si arrampica socialmente. Rubi. Ti comporti male e fai giochi da adolescente. Quante volte sei andata all'infermeria per fingere infortuni? Tante. Questo è un atteggiamento irrispettoso nei confronti di chi compete. Io sono un atleta e sono venuto qui per giocare. Tu sei una subrette mancata, ti sei allontanata da ciò che facevi e, infatti, non fai più nulla. Sei solo un fastidio. Natalie non ci stai risplonde. Mi disgusti. Dire moterfu asterisco asterisco era una madre è terribile. Etichettarmi come arrampicatrice sociale. Nonostante io non abbia mai accettato un euro da un uomo, è vergognoso. Continuo a fare teatro proprio perché non ho opportunità facili. Questo signore maleducato non sa che certe cose non si dicono. Io non mi sono mai permessa di usare volgarità nei suoi confronti. Ha scatenato tutti contro di me. Mi sta facendo del bullismo. Mi fa schifo. Sta svuotando il mare delle conchiglie, specie in via di estinzione. E inoltre non mi fornisce nemmeno il cibo. Da parte sua, Andrea ha concluso con una frecciatina finale. Sei una serpe e lo rimarrai. Sei insignificante.